Ciao a tutti da WebamTV, oggi vi faremo conoscere all'interno di scambi europei il programma BET ex Leonardo da Vinci, è un programma che permette ai giovani di svolgere per qualche settimana un'attività lavorativa o di formazione in un paese europeo e così arricchirsi personalmente e migliorare anche la lingua di quel paese. Adesso vediamo come ci si può iscrivere a conoscere meglio il programma, si va sulla pagina www.scambieeuropei.info dove trovate alla barra superiore posizionandovi la freccia su partire apparirà una slide verde, cliccate su Leonardo VET e troverete tutte le informazioni nella nuova pagina. Questo programma rappresenta uno dei progetti promossi dall'Unione Europea ed è rivolto a chi vuole fare un'esperienza di stage in un paese straniero dopo gli studi scolastici. Il suo obiettivo riguarda la promozione della partecipazione giovanile al mercato europeo. Vi abbiamo spiegato brevemente il programma BET ex Leonardo da Vinci, continuate a seguire WebamTV, nelle prossime puntate vi mostreremo gli altri programmi interni a scambio europei. Ciao!